Nella lista ufficiale dei big che concorreranno alla prossima edizione del Festival di Sanremo c'è anche Elodie Di Patrizzi, la seconda classificata della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi. Ha preso la notizia mentre si trovava con la sua inseparabile collega e amica Emma Marrone. Ma la cantante dalla calda voce e l'originale look dai capelli rosa è oggi ancora più felice in quanto si parla già di lei come la possibile vincitrice. È sua, infatti, la quota più bassa per gli scommettitori, che la danno quindi per vincente. Seguono Fiorella Mannoia e l'amico e vincitore di Amici Sergio Silvestre. Per restare aggiornato sul gossip iscriviti al nostro canale YouTube e seguici sulla nostra pagina Facebook. Grazie. Grazie.